Meno tre giorni a Natale. Oggi accendiamo un cero per i vivi e i defunti, perché siano presenti nelle nostre preghiere. Pur desiderandolo, in molte situazioni non possiamo intervenire direttamente, né porvi rimedio. Allora riscopriamo la forza della preghiera che in Dio ci permette di essere vicini a chiunque, superando ogni limite di età, cultura, distanza, esperienza, persino l'ostacolo della morte. Gesù, tu che sei l'Emmanuele, il Dio con noi, vieni a nascere nel cuore dei vivi e stai con i defunti. Alimenta la speranza e la fede nella risurrezione che inaugura la vita nuova, quella vita che si consuma e si perfeziona nella vita eterna. O re delle genti, atteso da tutte le nazioni, pietra angolare che riunisci i popoli in uno. Vieni e salva l'uomo che hai formato dalla terra. Gesù, tu sei l'unico vero e grande re. Tu non schiacci l'uomo, tu non domini i popoli. Tu non vuoi essere servito, ma vieni a servire l'umanità. Grazie. Grazie.